benvenuti a occhio ai giornali la rassegna stampa di fano tv il commento la stampa del giorno oggi è giovedì 22 luglio 2021 ovviamente e questa è il canale 17 il canale 17 di fano tv allora iniziamo dal santo di oggi vediamo subito santa maria maddalena o su santa maria maddalena dobbiamo dire che era una donna che ha avuto qualche problemino aveva sette demoni e poi è stata liberata da gesù il sole è sorto alle 5 46 e tramonterà le 20 e 43 sito della protezione civile delle marche come vedete la spiaggia litorale la costa adriate che sarà libera dalle nuvole quindi splendere il sole ma attenzione se avete qualche programma nell'entroterra soprattutto in montagna nel pomeriggio sappiate che sono previsti rovesci o temporali sparsi in collina zona alta collina e in montagna per la giornata di domani invece il tempo sarà buono a parte i sibillini con un po di pioggia e poi sabato lo stesso fine settimana cielo sereno tempo stabile anche per la giornata di lunedì allora come di consueto andiamo adesso a vedere com'è il tempo nella splendida baia di portonovo siamo in provincia di ancona c'è il nostro edoardo rubini che ci mostra subito questa splendida immagine incredibile bella affascinante straordinaria bella vorrei essere lì buongiorno edoardo dove sei buongiorno preferisco farvi vedere una cosa così bella che io non sono così bello la mattina buongiorno buongiorno a te grazie per questa cartolina stupenda allora braviglioso si dici dici qualcosa per la giornata di oggi ma oggi come dicevi tu è prevista una giornata veramente calma molto sereno tempo buono perciò è un'altra giornata da vivere in mare a pieno proprio perché comunque anche questo momento qui ci sono degli affezionati che arrivano le cinque un quarto e vanno via le sei e mezzo pensate il massimo di quello che può essere il mare no si possono fare un po di ciò si sono buongostai più che camminate riescono a fare il primo bagno perciò fuori da ogni da ogni confusione fuori di ogni problema diciamo no senti parlando con te edoardo mi dicevi di una cosa molto bella che mi è piaciuta molto vorrei che la dicesse ai nostri telespettatori che ci seguono da tutte le marche questa particolarità del questa attenzione dedicata ai disabili giusto ma sì io 52 anni ho sempre fatto questo ci siamo sempre dati da fare per tante cose grazie al comune di ancona dove sto camminando io ha formato una piazzola degli stalli dove adesso vi farò vedere dove finalmente i ragazzi o chi ha qualche problema così ha dei posti gratuiti degli stalli gratuiti messi a messi a disposizione del comune di ancona non potete vedere spettare faccio vedere contro contro sole come dicevi tu praticamente ci sono questi stalli con lettino ombrellone e una seggiolina per il suo accompagno dove le persone possono possono accomodarsi qua gratuitamente perciò questo è uno stallo messo a disposizione dal comune di ancona che noi ringraziamo e le persone possono i da parcheggiare qui gratuitamente all'interno accomodarsi qui usufruirne dopodiché tramite questa seggiolina che abbiamo qua o un'altra si chiama una job ma anche questa è molto pratica riesco ad accompagnarli a fare il bagno in questo meraviglioso mare questa è una cosa importante che facciamo ma non è mai un peso perché è una grande passione anche questa qui perciò è un piacere poter diciamo così usufruire a tutti dico a tutti questo meraviglioso mare e certo dare un po di gioia anche queste persone e quindi da angelo custode quale sei a questo punto grazie per questo collegamento ci vediamo domani mattina allora grazie edoardo buona giornata grazie a voi di questa opportunità buona giornata a te allora andiamo a vedere adesso invece i giornali cominciamo dal corriere adriatico l'edizione ovviamente quella di pesero in primo piano medicino vax chiederemo i danni l'assessore salta martini dai primi cluster post europea la grana dei sanitari senza protezione dopo le diffide stiamo cercando di convincere tutti altrimenti l'alternativa della legge è chiara vedremo qual è questa alternativa san nicola a pesero la fiera di san nicola scontro sul green pass a fano invece si farà la fiera di san bartolomeo poi ancora dalla prima pagina rischio incendi san bartolo sarà video sorvegliato sedicenti sorelle derubano un'anziana con un raggiro e a fano a caccia di case da razziare ragazza finisce in manette san benedetto centro e borghi il triplete dell'amministrazione siamo sempre su pesero finanziati tre progetti del comune per 45 milioni il sindaco ricci dice un grande risultato adesso invece il carlino di pesero in primo piano questa immagine di carlo pagnini che guida la campagna anti raggiri anti truffe ma i casi si moltiplicano non fatevi truffare questo è il titolo della fotonotizia in particolare qui si fa riferimento ad un'iniziativa del comune di pesero che ha deciso di realizzare un video che tra l'altro vi mostreremo e abbiamo anche noi in programmazione devo dire un video veramente bello fatto bene che spiega esattamente cosa accade e come evitare le truffe soprattutto rivolto questo video agli anziani girato dagli anziani come appunto carlo pagnini ed è un video che vi faremo vedere se abbiamo tempo anche all'interno della rassegna stampa lo dico al regista senza essermi purtroppo messo d'accordo prima della mese in onda vediamo insomma poi magari mi dirai se c'è tempo e se ce lo abbiamo mentre valentino rossi quale futuro per lui il tempo sta per scadere ora valentino rossi deve decidere che cosa fare della sua vita sportiva green pass la rabbia dei ristoratori ora dobbiamo anche fare i vigili mentre san benedetto e borghi ecco i milioni finanziati due progetti di rigenerazione su tre e anche per il terzo ci sono speranze di promozione poi l'annuncio invece dell'assessore regionale baldelli la ferrovia pergola fabriano sarà riattivata da settembre ma solo a fini turistici almeno per questo momento ma centropagina sul carlino di ancona ve lo selezionate questa mattina perché guardate la fotonotizia tamponi europei questo è il titolo domenica al pala indoor ci sarà un test gratuito per chi ha festeggiato l'italia in quella zona dove pare che ci sia un focolaio e andiamo a vedere subito la pagina 5 del corriere adriatico allora che cosa succede è scoppiato un focolaio al pincio di ancona e l'asur accende un faro sulla notte magica degli europei con lo strascico della finalissima che si starebbero facendo sentire anche in diversi altri comuni marchigiani al momento sarebbero meno di 10 i casi positivi accertati nella zona dorica ma per ampliare l'analisi epidemiologica ed avere un quadro più preciso della situazione l'area vasta 2 ha organizzato questa giornata di tamponi gratuiti e senza prenotazioni domenica al pala indoor quindi nel capoluogo allora commento noi siamo qui per commentare ci facciamo due chiacchiere con un caffè davanti prima della messa delle sette e mezzo e quindi cerchiamo di commentare un po' queste queste notizie chiaramente questa è una buona cosa un'ottima cosa chi ha festeggiato in quella zona del pincio ad ancona è bene che si faccia questo tampone per evitare ogni rischio di contagio quindi questa è un'ottima cosa l'unica se vogliamo essere un po' pignoli l'orario secondo me è un po' infelice perché parliamo di giovani giovani che hanno festeggiato soprattutto sono loro i diretti interessati sono loro quelli che andranno testati domenica e dargli appuntamento alle 8 e 30 del mattino di domenica la vedo molto dura considerate che il fine settimana il sabato i giovani escono a mezzanotte e rientrano se va bene alle 5 del mattino quindi dirgli di o si fanno un cappuccino e poi vanno direttamente a farsi il test oppure se vanno a dormire scordatevi di vederli lì alle 8 e mezzo del mattino sarebbe stato meglio fare il pomeriggio questo sì a livello logistico sia ancora in tempo forse sì per cambiare un po' forse può essere un problema per chi deve organizzare questi tamponi farli il pomeriggio non lo so però farli dalle 8 e mezzo alla mezza sicuramente non è un'ottima idea ma comunque intanto alcune indicazioni veloci i sanitari raccomandano di raggiungere questo pala indoro appunto per fare il tampone con un mezzo proprio e di non condividere l'auto con altre persone a bordo ovviamente ad eccezione dei minorenni o per chi non ha un mezzo proprio e quando si arriva lì al fine di agevolare lo screening si dovrà esporre sul cruscotto dell'auto un cartello con il nome il cognome e il codice fiscale e poi ovviamente un documento di identità ma tutti i dettagli li troverete sulla pagina 5 del Corriere Adriatico di oggi la firma è di Martina Marinangeli e così come sul resto del Carlino vedete tamponi per chi ha festeggiato l'Italia al Pincio Pincio di Ancona lo ricordiamo per non confondere i fanesi era stata segnalata una affollata festa privata guidi che guida scusate il gioco di parole l'area vasta numero 2 dice aperti anche a chi si trovava al passetto quindi non solo al Pincio ma anche al passetto di Ancona domenica poi tutti al pala indoro appunto per farsi tamponare e stare anche un po' più tranquilli perché perché comunque sia poi c'è gente che si sposta magari non sa di essere contagiato quindi è asintomatico va ovunque va pure in vacanza come succede a questi 400 ragazzi e qui siamo di nuovo sul resto del Carlino che sono in partenza per la Grecia hanno bisogno dicono quelli dell'agenzia hanno bisogno di fuggire dalla depressione abbiamo giovani depressi che non hanno retto al lockdown il tour operator che organizza il viaggio da Ancona per Corfu non cancella l'imbarco nonostante l'appello lanciato dalla Farnesina questo tour operator che si chiama Scuola Zoo dice oggi sì ci siamo domandati se era il caso di fare questo viaggio oppure no quando abbiamo ricevuto questa questa indicazione questo suggerimento dalla Farnesina però insomma dice tutto sommato noi abbiamo anche un'assicurazione che copre tutti i rischi anche eventuali prolungamenti di tempo quindi di permanenza in Grecia ma comunque andiamo a vedere un attimo nel dettaglio perché poi magari in Grecia ci vanno anche altre col fai da te e non con l'agenzia in Grecia ad oggi ci si può entrare avendo completato il ciclo vaccinale oppure attraverso un tampone negativo se rapido fatto massimo 48 ore prima se molecolare invece massimo 72 ore prima e c'è infine anche un modulo da compilare e va bene la comitiva questa comitiva di 400 giovani si fermerà 10 giorni per poi ritornare qui in Italia il primo di agosto in Grecia dicono si rilasseranno si divertiranno prenderanno il sole gli itinerari prevedono escursioni giornate in spiaggia gita in barca cene per provare la cucina locale aperitivi e drink serali in relazione alla normativa vigente in Grecia però attenzione tutto questo popò di roba chiaramente sapendo che in Grecia nell'isola eccetera ci sono insomma dei problemi perché ci sono degli aumenti di casi quindi in molte isole compresa Corfu la presenza di stranieri risultati positivi al Covid-19 è significativa e sta comportando rallentamenti e difficoltà alle autorità sanitarie locali eccetera eccetera comunque tutti i nostri pacchetti viaggio dicono ancora quelli che hanno un'assicurazione ad hoc che copre ogni eventuale costo dovuto al Covid compresa l'eventuale quarantena che in caso non avverrà quindi in strutture spesso fatiscenti, offerte dalle autorità locali verrà fatta in alberghi ad hoc quindi pagate dall'agenzia però al momento non c'è nessuna disdetta tante domande sono arrivate agli organizzatori ma ci siamo interrogati abbiamo detto vabbè andiamo perché comunque andiamo lo stesso perché i ragazzi meritano di andare in vacanza ma chi già è andato in vacanza ci sono due ragazzi pesaresi di cui abbiamo parlato hanno parlato i giornali nei giorni scorsi due ragazzi pesaresi che dovevano stare lì dall'8 al 13 luglio invece ancora stanno là sono bloccate a Corfu tampone negativo adesso per una delle due studentesse due ragazze pesaresi di 18 anni che sono rimaste bloccate in Grecia perché positive e una è pronta a tornare in Italia ieri sera ha avuto l'esito negativo del tampone molecolare e oggi dovrebbe rientrare a Pesaro per l'amica invece ieri sera alle 8, alle 20 ancora non si sapeva l'esito di questo tampone la loro vacanza doveva come dicevo durare dall'8 al 13 luglio ma essendo positive sono state costrette a rimanere altri dieci giorni in quarantena sull'isola greca ma immagino non con il drink l'ombrellino e la cannuccia cioè una quarantena immagino che sia non lo so poi magari anche così ma comunque una quarantena dieci giorni fuori da casa non è un gran che il sanitario Novax cambiamo pagina dal Corriere Adriatico qui c'è un'intervista all'assessore Saltamartini ricordiamo Saltamartini ha 63 anni è stato vicequestore aggiunto della polizia docente universitario di diritto e senatore con il PDL Popolo della Libertà Forza Italia insomma Berlusconi nel 2009 si è candidato sindaco nel suo paese d'origine a Cingoli ed ha vinto le elezioni per due mandati poi è stato eletto consigliere regionale nella Lega con 3817 voti ed è assessore regionale alla sanità ora cosa dice Filippo Saltamartini in questa intervista ad Andrea Taffi del Corriere Adriatico beh dice diverse cose che c'è stato questo incontro ieri mattina con tutti gli altri omologhi quindi insomma con per decidere la linea da adottare come regioni e le richieste ad avanzare al governo ma io vado a sottolineare ho sottolineato invece un altro aspetto quello che riguarda i Novax chiamiamoli così che lavorano però in ambito sanitario quindi infermieri medici e quant'altro allora come sta procedendo il servizio salute nell'iter con i sanitari Novax questa è la domanda di Taffi la risposta di Saltamartini abbiamo circa 3.000 persone tra i sanitari quindi nelle Marche che non si sono ancora vaccinate la legge prevede che ci sia una diffida e noi l'abbiamo inviata tramite raccomandata a tutti poi la valutazione della ricollocazione e infine la sospensione questa ovviamente arriverà dopo abbiamo deciso di fare un ulteriore passaggio e di non agire subito rigidamente quindi che cosa succede allora se si tratta risponde Saltamartini di spostare un infermiere a diverse mansioni è un conto senza sminuire ovviamente il lavoro degli infermieri ma se invece si tratta di una figura centrale come un primario o un anestesista questo potrebbe provocare dei problemi di copertura dei servizi più delicati ora la legge per quanto riguarda ecco quest'altra domanda nelle ultime ore si è creato un dibattito ancora più radicale dell'opinione pubblica e si è arrivati a ipotizzare un risarcimento danni per chi non vaccinato diffonde il virus parliamo sempre in ambito sanitario e quindi se un medico un infermiere dovesse contagiare un paziente ecco che cosa succederebbe allora risposta di Saltamartini su questo punto mi ero già espresso la legge anche su questo è chiara e dunque chi ha il virus e lo trasmette commette un reato quello di lesioni con il reato si configura anche la possibilità di creare un danno e comunque per la vittima di poter avanzare una richiesta di risarcimento noi non difenderemo con i nostri avvocati sanitari che dovessero incappare in questo reato e poi chiederemo il risarcimento danni ora chiaramente capite che già si va in difficoltà quando si deve giudicare quando si deve stabilire una cosa quando abbiamo la pistola fumante in mano figuriamoci quando parliamo di un qualcosa che non si vede come un virus ce l'ho io glielo ho attaccato io glielo ha attaccato il collega glielo ha attaccato un passante come fa a stabilire che sono stato io a contagiare il paziente in ospedale anche qui è tutto un marasma per il quale preferirei non entrare nel dettaglio intanto ricoveri e rinimazioni scatta il braccio di ferro sui numeri della zona gialla di questo come dicevo poco fa si è parlato nell'incontro di ieri mattina perché ci sono queste percentuali che vanno in qualche modo stabilite chi vorrebbe come il governo il 5% di occupazione di terapie intensive per far scattare la zona gialla chi il 10% per i reparti ordinari ma le regioni soprattutto quelle piccole come appunto le marche chiedono di passare al giallo solo con un'occupazione al 20% dei reparti intensivi e al 30% dell'area medica maglie decisamente dunque più larghe rispetto a quello che vorrebbe il governo e che dovranno essere vagliate dai tecnici la soglia del 5% per le rianimazioni in particolare ha fatto scattare qualche campanello d'allarme qui nelle marche anche perché perché i posti letto su cui si può contare al momento sono poco più di 200 anche alla luce del fatto che nel frattempo il covid hospital con le sue 42 terapie intensive potenziali è stato chiuso e quindi basterebbero appena 10 degenti in terapia intensiva per dire addio alla zona bianca ora che cosa succede stando ai dati di ieri vado a memoria dunque sono 3 quelli che sono in terapia intensiva quindi erano 2 uno in più ad arrivare a 10 ce ne sono ancora 7 bisognerà vedere nei prossimi giorni se qualcun altro ci finirà dentro però al momento la situazione mi pare abbastanza tranquilla sperando che di questi 3 presto qualcuno se ne torni a casa con le proprie gambe insomma diciamo che la situazione i giornaloni ce la dipingono come catastrofica poi però andando ad analizzare un po' i dati senza voler sminuire ma comunque andando ad analizzare criticamente i dati la situazione è un po' diversa anche questa storia degli europei insomma prendiamola un po' con le pinze ancora siamo all'ottavo nono giorno siamo quasi in fondo vediamo se è veramente tutta questa tragedia oppure no e noi ci auguriamo di noi intanto il sindaco di Pesero come sapete il sindaco di Pesero ha fatto questo scatto di reni in avanti anticipando a livello nazionale tutti quanti e ha proposto il Green Pass per partecipare alla prossima fiera di San Nicola che si terrà a Pesero appunto nel mese di settembre una decisione che ha scatenato un vespaio di polemiche anche politiche tanti commenti anche sui social però insomma che cosa succede torniamo sul Corriere Adriatico che c'è allo studio questo piano per il Green Pass ma è scontro politico l'assessore Pozzi dice l'Italia e Pesero procedono nella stessa direzione d'accordo i 5 Stelle con il suo assessore Franco e Luci che è l'assessore di riferimento al commercio chi è contro questa cosa è Fratelli d'Italia che attacca il sindaco di Ricci accusandolo di protagonismo allora i 5 Stelle che al momento a Pesero lo ricordiamo sono all'opposizione ma in giunta hanno l'assessore Francesca Franquellucci che si occupa di commercio l'assessore Franquellucci dice l'economia ha bisogno di ripartire e il Green Pass è lo strumento per non chiudere più la riapertura della fiera di San Nicola rappresenta un segnale importante di ripresa cosa dice invece Luca Pandolfi che è segretario di Fratelli d'Italia di Pesero dice così come in innumerevoli altre occasioni il sindaco di Pesero non perde occasione per promuovere iniziative in anticipo sui tempi perché primeggiare come anche acquisire visibilità sono per lui assolute priorità ma è lecito domandarsi chi ne paga il prezzo risposta semplice i cittadini pesaresi coloro che hanno liberamente scelto vista la non obbligatorietà della vaccinazione di non vaccinarsi ma anche coloro che per patologie non possono vaccinarsi ai quali sarà precluso l'accesso appunto alla fiera di San Nicola intanto a Fano c'è la fiera di San Bartolomeo che arriva prima a livello temporale perché? perché se quella di San Nicola è a settembre quella di San Bartolomeo è a Fano dal 24 al 26 di agosto Fano che spesso lo diciamo ha seguito in alcune occasioni Pesaro in questo caso pare che non succederà quindi per andare alla fiera di San Bartolomeo a Fano non ci sarà bisogno del Green Pass ma l'assessore Etienne Lucarelli dice una cosa piuttosto giusta saggia aspettiamo quali sono le linee direttive nazionali che serve fare una una cosa così isolata dal resto del mondo quando poi magari le linee direttive del governo nazionale sono altre allora attendiamo e vediamo che cosa ci dicono intanto in questo articolo di Andrea Amaduzzi si fa non solo il punto sulla fiera di San Bartolomeo che appunto ci sarà rispetto all'anno scorso che è saltata e quindi questo è già un dato importante però poi si parla anche per esempio del ritorno e questa è una bella cosa del festival della fortuna il rilancio del festival della fortuna un festival musicale che torna dunque a Fano poi è stata confermata la festa del mare in agenda per il 31 luglio e il primo di agosto anche qui però sarà un po' tutto circoscritto stiamo definendo dice ancora Lucarelli il programma ma fondamentalmente ci si limiterà alle celebrazioni rituali non ci saranno gli stand gastronomici aggiunge Lucarelli e mi sento di escludere anche i fuochi d'artificio quindi niente fuochi d'artificio spettacolo pirotecnico che rappresentava un'altra caratteristica dell'evento sempre restando a Fano piazza Marcolini associazioni stizzite mai coinvolte la strategia è sbagliata si parla di parcheggi di rifacimento di questa piazzetta che si trova in centro storico lettera congiunta al sindaco dopo il faccia a faccia tra serie residenti iniziative estemporanee e senza visione questa è la critica poi sul mare erosione scogliere non concluse il comune in soccorso la spiaggia a Bagnicarlo sarà riportata a livello fine lavori a settembre mentre la cronaca da Fano a caccia di case da razziare è stata arrestata una giovanissima l'auto fermata nel quartiere di Sant'Orso lei doveva scontare una pena una maxi multa per lui dunque caccia ai topi d'appartamento da parte della polizia di stato di Fano poi un furgone che è andato a fuoco in autostrada era carico di fibra ottica autista e leso ma il malore scusate il calore ha sciolto il manto stradale e poi a tre ponti sempre un quartiere di Fano terra di nessuno la lega attacca strada di Madonna Ponte bisognose di asfaltatura ma di un'asfaltatura che sia un'asfaltatura degna di essere chiamata tale e non di rattoppi la pagina di Fano invece del Carlino Pergola Fabriano la tratta sarà riattivata da settembre il percorso ripartirà per fini turistici ad annunciarlo è l'assessore regionale dalle infrastrutture Francesco Baldelli sono trascorsi quasi otto anni dal passaggio dell'ultimo treno bloccata invece un'auto con tre ragazzini nell'abitacolo c'erano arnesi da scasso due cacciavite e dei guanti generalmente utilizzati per scardinare gli infissi e poi c'è questa notizia che riguarda Fossombrone un'anticipazione una conferma si era già parlato sapete che a Fossombrone si voterà per eleggere il nuovo sindaco attualmente c'è Gabriele Bonci c'è un candidato un candidato possiamo definirlo d'eccezione eccolo qui lo vedete nella foto Massimo Berloni che è il fondatore di Dondap correrà con un progetto civico e solidale scende in campo dunque per Fossombrone Fossombrone dice lui deve tornarci dovrà tornare ad essere un punto centrale dopo averci riflettuto a lungo dice Berloni ho dato la disponibilità a guidare un progetto di rilancio e poi fa un'analisi di quello che è un po' quello che è il Fossombrone oggi i giovani che per esempio sono costretti a fare le valigie per cercare altrove occasioni di lavoro che qui dice non trovano più sento motivazioni spente molta frustrazione e rassegnazione un generale senso di impotenza non possiamo permettercelo dice ancora Berloni e poi a proposito di Chiarabilli Michele Chiarabilli dice riconosco a Michele passione e competenza allora la cronaca ancora da pagina 14 del resto del Carlino spari all'amicio indagano i carabinieri forestali è successo a Pergola questa immagine di questa gattina Lilli che si trova nella clinica veterinaria ha gli arti posteriori paralizzati e per muoversi anche di pochi centimetri deve trascinarsi utilizzando le sole zampette davanti sconcerto per l'episodio una condizione che l'accompagnerà per il resto della vita il comune di Urbino farà 22 assunzioni la conferma dell'assessore al personale Marianna Vetri rifoltiremo tutti i servizi non c'è altro tempo e allora io mi fermo qui vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.